Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale SOR di Consiglio regionale dell'Umbria. Questa la sintesi della seduta d'aula di giovedì 3 dicembre 2020. Con voto unanime, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dato il via libera ad una proposta di legge unitaria della seconda commissione, illustrata in aula da Valerio Mancini, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 del 2013, concernente norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009. L'evento calamitoso interessò in particolar modo Spina e la media valle del Tevere. Le modifiche legislative prevedono principalmente l'allargamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti, comprendendo tutte le tipologie di fabbricati, ad oggi non considerate nella ricostruzione e quindi rimasti incompleti. L'integrazione proposta consentirebbe sostanzialmente di inglobare nell'accesso alla finanziamento tutto il patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie solo parzialmente considerate in precedenza, con conseguente relativo monitoraggio e stima del patrimonio stesso. Approvata all'unanimità una mozione presentata dalla Lega e firmata da tutti i gruppi consigliari sulla vicenda Treofan. L'atto di indirizzo impegna la Giunta ad attivarsi con il Governo nazionale a difesa del patrimonio occupazionale e del know-how aziendale, affinché si chieda al gruppo Gindal di ritirare la procedura di licenziamento collettivo e procedere all'attivazione degli ammortizzatori sociali per sviluppare progetti industriali volti alla ripresa produttiva dello stabilimento, con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle produzioni della Treofan di Terni. Tra le altre emozioni all'ordine del giorno, presentate ed illustrate in aula, sono state approvate, quella presentata da Fratelli d'Italia, che propone di rimodulare orari ed attivare una corsia preferenziale per bambini fino a sei anni, disabili, over 65 e donne in stato di gravidanza, per l'effettuazione di tamponi rapidi con la modalità del drive-throw. Voto favorevole a maggioranza anche per l'atto presentato dalla Lega, che impegna la Giunta ad assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il Governo al fine di dotare gli agenti di polizia penitenziaria di pistole a impulsi elettrici, conosciuta come taser e spray urticante, affinché possano poter fronteggiare situazioni di autodifesa in caso di necessità. Approvazione unanime inoltre per la mozione che chiede forme di ristoro a favore di tutte le categorie economiche, oggetto di restrizione della propria attività, a seguito di provvedimenti regionali e che non godano di misure equipollenti con provvedimenti statali o comunitari, presentata dalla minoranza e poi condivisa da tutti i capigruppo, e per quella firmata da carissimi e peppucci della Lega, che impegna la Giunta regionale ad individuare un percorso che porti al superamento dell'utilizzo di animali nel circo su tutto il territorio regionale. Differente esito per la risoluzione leghista sul trasferimento dallo Stato alla Regione della proprietà delle strutture provvisorie per l'agricoltura e o per il ricovero di animali, realizzate dopo il terremoto del 2016, allo scopo di cederle ad allevatori e agricoltori, e sulla mozione Porzi del PD, che impegnava la Giunta regionale ad attivare ogni strumento finanziario utile a rafforzare l'assistenza territoriale ed ospedaliera, respinta a maggioranza. Sette sono state le interrogazioni trattate nella sessione della seduta riservata al question time. I consiglieri Valerio Mancini, Daniele Carissimi, Francesca Peppucci ed Eugenio Rondini della Lega, hanno chiesto di sperimentare la terapia con il plasma iperimmune contro il Covid-19. Nell'illustrazione dell'atto, Mancini ha spiegato che il Policlinico San Matteo di Pavia e l'ospedale Carlo Poma di Mantova hanno sperimentato la terapia che prevede l'utilizzo del plasma iperimmune contro il Covid attraverso la somministrazione a pazienti positivi di plasma prelevato da soggetti guariti dal medesimo virus. I primi risultati della sperimentazione sarebbero molto incoraggianti e questo trattamento avrebbe un notevole livello di sicurezza virale, ha detto Mancini, ed è praticamente senza effetti collaterali. L'assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha risposto evidenziando che la regione Umbria partecipa allo studio tsunami, studio clinico in cui viene utilizzato il plasma di donatori guariti da Covid-19 come terapia precoce della polmonite SARS-CoV-2. L'obiettivo dello studio consente di valutare l'efficacia e la sicurezza del plasma. Il centro promotore dello studio è l'azienda ospedaliera universitaria Pisana, affiancata dal Policlinico San Matteo di Pavia. A marzo 2020 è partita l'interlocuzione tra regione Umbria e azienda ospedaliera di Perugia. A maggio è stato approvato il protocollo tsunami che prevede il coinvolgimento di quattro centri trasfusionali dell'Umbria e relative unità operative Covid-19. Sempre a maggio è stato lanciato l'appello ai donatori di sangue ed emocomponenti ad offrire la loro disponibilità a donare plasma. L'Umbria, ha detto l'assessore, è la seconda per pazienti arruolati. Rispetto all'efficacia e sicurezza relativa allo studio, la prima analisi dei dati verrà effettuata entro il mese di dicembre. La consigliera regionale Donatella Porzi del Partito Democratico ha chiesto chiarimenti all'assessore alla sanità Luca Coletto sui servizi di lavanderia e pulizia nell'ambito sanitario e di verificare la possibilità di revoca dei contratti alla luce del decreto semplificazioni. Porzi ha detto di chiedere questa verifica soprattutto perché in Umbria sono presenti importantissime realtà industriali del settore del Lavanolo in forte crisi occupazionale. Rispondendo all'interrogazione, l'assessore Luca Coletto ha sottolineato che pulizia e Lavanolo rappresentano due gare diverse. Nel primo caso si fa riferimento al solo settore dell'Avanolo e relativamente a questa gara Umbria Salute e Servizi, come CRAS, ha svolto una gara regionale nel 2018 che ha visto aggiudicare a servizi ospedalieri l'appalto con un costo assai inferiore allo storico fornitore uscente Sogesi. All'aggiudicazione ha fatto seguito un lungo iter giudiziario che in ogni grado ha comunque confermato la legittimità della giudicazione. La gara a pulizie, ha detto Coletto, è tuttora in corso a cura del CRAS e il relativo attuale servizio viene svolto da ditte risultate giudicatari e di altre gare, gestite dalle aziende sanitarie ed ospedaliere che curano la relativa esecuzione del contratto. Il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico ha chiesto alla Giunta come e con quali risorse la Regione intenda recuperare la struttura dell'ex ospedale di Città di Castello e soprattutto se intenda ancora farlo visto che i fondi destinati nel 2018 per recupero e rifunzionalizzazione dell'edificio ora non ci sarebbero più. Nel luglio 2020 la Regione ha firmato una convenzione e ha incassato gli oltre 4 milioni dell'ascito che le sorelle Mariani avevano destinato ai Tifermati. Attorno a quell'ascito e alla struttura dell'ex nosocomio cittadino, la sinergia tra Comune, Asla e Regione aveva costruito, prima dell'arrivo della Giunta a trazione leghista, detto Bettarelli, il progetto della Casa della Salute, stanziando fondi e arrivando alla fase conclusiva. Quanto accaduto coinvolge e penalizza gli abitanti di Città di Castello e dell'intera Alta Valle del Tevere. L'assessore Roberto Morroni ha ricostruito l'iter seguito negli anni per puntare alla ristrutturazione degli immobili dell'ex ospedale e le destinazioni dei fondi che avrebbero dovuto essere impiegati. A fine luglio 2020 la Regione, la USL 1 e il Comune, ha detto Morroni, hanno sottoscritto un protocollo che disciplina l'utilizzo dell'ascito da destinare all'erogazione dei servizi sanitari resi sul territorio del Comune di Città di Castello. La Regione si è impegnata a trasferire il lascito del patrimonio del Comune a quello dell'azienda USL 1 che dovrà impiegarlo per erogare servizi sanitari. È ora oggetto di approfondimenti la possibilità di utilizzo dell'edificio. I consiglieri Paolo Affioroni e Stefano Pastorelli della Lega hanno chiesto alla Giunta regionale quali misure di carattere strutturale ed economico intende adottare o abbia adottato per supportare lo sviluppo della formazione professionale anche della pubblica amministrazione a favore della digitalizzazione e didattica online. Illustrando l'atto ispettivo Paolo Affioroni ha sottolineato che occorre supportare sempre più attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze dei lavoratori dell'impresa delle tecnologie. Il nuovo paradigma formativo, ha detto Paolo Affioroni, richiede un investimento non solo tecnologico ma anche culturale sviluppando una formazione a servizio della pubblica amministrazione. L'assessore Michele Fioroni ha spiegato che si tratta di uno dei temi centrali di cui la politica deve occuparsi. La Manifattura Umbra è ai primi posti in Italia ma venticinquesimi in Europa per competenze digitali. Rischiamo di perdere competitività proprio su quello che era il punto di forza del sistema paese. Non bastano le tecnologie, ha detto l'assessore Fioroni, servono competenze adeguate per i lavoratori ma anche i piccoli imprenditori che rappresentano il 95% del tessuto economico locale. Vanno sviluppate competenze nella sicurezza informatica, nelle professionalità relative all'interazione uomo-macchina. È in uscita un grande e innovativo piano di formazione sulle competenze digitali. La regione, ha assicurato l'assessore, metterà 5 milioni di euro a supporto dello sviluppo delle competenze digitali facendo attenzione ad individuare il giusto target tra lavoratori e imprenditori. I consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli della Lega hanno chiesto alla Giunta di sapere quali misure di carattere economico e strategico intende adottare o abbia adottato per supportare nella pubblica amministrazione il processo di innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. L'emergenza pandemica, ha detto Paola Fioroni, ha evidenziato che il nostro paese praticamente è diviso in 21 sistemi sanitari diversi che in larga parte non si parlano tra loro. Nella sua risposta l'assessore Michele Fioroni ha detto di aver trovato una situazione digitale confusa definendo paradossali alcune scelte di un data center digitale che si basava solo sul problema fisico di dove farlo quando il resto del mondo andava verso il cloud. L'obiettivo, ha detto l'assessore, è di arrivare a un unico funzionamento della macchina regionale con un'unica funzione ICT, con una revisione dei processi e una razionalizzazione dei costi. Siamo mappando, ha assicurato Fioroni, tutti i servizi regionali lavorando con metodi innovativi. Siamo cercando di cambiare il modello di governance di Umbria digitale, individuata come il soggetto che dovrà guidare il processo di transizione digitale. Va definito un percorso di accesso unico ai servizi per creare una sorta di fascicolo digitale del cittadino. Sul versante della sicurezza, ha detto Fioroni, stiamo lavorando su un protocollo di intesa con l'università e la polizia postale. I consiglieri Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, Michele Bettarelli e Tommaso Bori del Partito Democratico hanno chiesto alla giunta regionale di conoscere la rendicontazione puntuale e il relativo utilizzo dei ventilatori polmonari, complessivamente nella disponibilità della regione Umbria, comprendendo con ciò anche le apparecchiature eventualmente donate direttamente o già in possesso delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali senza il tramite della regione, spiegando altresì come si intenderebbe impiegare gli ulteriori macchinari richiesti dalla presidente Tesei al commissario straordinario per l'emergenza Covid. L'assessore Luca Coletto ha risposto che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera ha disposto l'incremento dei posti letto. Si è partiti, ha detto, da 69 posti di terapia intensiva. Con l'intervento del Ministero ne dovevano essere aggiunte 58 per un totale di 127, più 62 terapie semi-intensive, delle quali la metà immediatamente implementabili a terapie intensive. Per la regione, con il piano di riorganizzazione, risulta un fabbisogno complessivo di 89 ventilatori di terapia intensiva e 31 di semi-intensiva. All'Umbria sono stati assegnati 60 ventilatori per le terapie intensive e 31 per la semi. Grazie alle risorse di benefattori, sono stati donati alla regione 24 ventilatori per la terapia intensiva e 20 per la semi-intensiva. Complessivamente, da marzo a oggi, ha detto l'assessore, sono stati acquisiti dalla rete ospedaliera regionale 84 ventilatori per la terapia intensiva e 51 per la semi-intensiva. Il fabbisogno complessivo è di 107 ventilatori per la terapia intensiva e 53 per la semi-intensiva. Resta un fabbisogno residuo di 23 ventilatori per le intensive e 33 per le semi. Il 16 novembre è stato richiesto il commissario straordinario l'invio in anticipo di 49 ventilatori per le terapie intensive e 34 per le semi-intensive. Il consigliere Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, ha chiesto all'assessore alla sanità Luca Coletto quali ulteriori ed urgenti provvedimenti economici in materia di contrasto alla povertà intende assumere la giunta regionale e se non ritenga utile attivare un laboratorio per definire linee di azioni innovative nell'ambito del welfare insieme agli enti locali, le forze sociali, le organizzazioni del terzo settore e le associazioni dei cittadini. Fora ha ricordato tra l'altro che nella sola diocesi di Perugia sono più di 1500 le famiglie sulla soglia della povertà assoluta che vengono assistite dalla Caritas con un incremento del 35%. L'assessore Luca Coletto ha ricordato gli interventi già messi in campo dalla regione per 3 milioni di euro atti a soddisfare le prime necessità. Per l'assessore serve un coordinamento con gli enti locali per avere contezza delle necessità dei territori. Servono risorse regionali a detto ma anche di livello superiore. Metteremo insieme un osservatorio assicurato collegandoci con i comuni per avere una radiografia esatta delle necessità. La programmazione richiede un collegamento con il governo per un piano martial per riattivare l'economia bloccata dalla pandemia. Necessario, ha aggiunto, creare posti di lavoro con l'aiuto del terzo settore, pilastro portante del processo. Servono interventi mirati, utili a far ripartire l'economia e dare possibilità alle famiglie di uscire dalla povertà e riproporsi sul mercato. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale sordi Consiglio regionale dell'Umbria.